bella a tutti ragazzi sono la virgo bentornati su gameplay channel e su american tif 80 prologo allora ragazzi quest'oggi ci proviamo questo titolo dedicato appunto ai furti negli anni 80 e ci proviamo come detto il suo prologo in attesa ovviamente della versione definitiva quindi facciamo subito nuova partita cosa interessante che il titolo è già tutto completamente in italiano quindi immagino che anche la versione definitiva ovviamente sarà così dovrebbe essere molto simile appunto a tif simulator solo che l'ambientazione sarà per l'appunto negli anni 80 quindi attendiamo il caricamento e iniziamo subito questo prologo ok eccoci qua vediamoci il filmatino iniziale l'ambientazione assolutamente gli anni 80 non so cosa ci vuol far vedere il gioco ah ok sta piovendo bene ah Dumbo oddio ho visto adesso il manifesto anziché Rambo c'è scritto Dumbo non ci voglio credere guardate a sinistra cerca di entrare per il balcone attraverso attraverso questa ok la cassaforte sarà nella sua stanza sai cosa fare veramente no non so di cosa stai parlando ma comunque penso lo scopriremo no vabbè il film Dumbo posso dire Rambo no mi ha smontato un mito mi ha smontato un mito nel giro di 3 secondi ok altro filmatino ci fa vedere mazza che villa eh mazza che sciccheria ok siamo molto stealth c'è una guardia qua all'ingresso va bene ok la guardia poi c'è una finestra bella aperta bella bella spalancata ok e quindi ci siamo va bene va grafica molto carina devo dire mi ispira molto molto bellina ci possiamo accucciare ovviamente volevo controllare che nella stanza non ci fosse nessuno allora per ora è andata bene entra e segui la guardia di sicurezza ok di qua ovviamente non la possiamo seguire giusto elenco azioni usa il grimaldello automatico non ce l'abbiamo quindi nulla va bene quindi necessariamente dobbiamo entrare di qua eh space per scavalcare ammazza che agilità ma che sciccheria qua il bagnetto però mica male mica male mica male telecamera ok attiva la telecamera voi potete cambiare telecamera in qualsiasi momento eh di default va bene quindi con v abbiamo oh visuale in prima persona si tutta la vita ok devo sistemare un attimino eh la sensibilità ma per il resto direi che va bene però la guardia perché mi dice segui la guardia di sicurezza ma dove stradiamine stava mica lo so io posso rubare intanto qualcosa uh sì bellissimo rubiamo intanto freghiamo oh questo è il nostro ah possiamo aprire tutto bellissimo pigliamoci qua queste statuette pigliamoci tutte le statuette vediamo che c'è qua allora intanto tieni premuto apri e apri non ho capito cosa cambia ah così spio ah eccolo lì la guardia ok la guardia è lì perfetto ma sta ferma ok c'era la cazzin quindi dovevo entrare per forza mi nasconde aspetto che passi nell'armadio ovviamente ovviamente sì qua siamo nella fase ovviamente del tutorial diciamo quindi ci fa vedere il tutorial mazzo al pelo ci siamo nascosti porca miseria ci siamo nascosti al pelo ciao guardia ciao ciao ok guarda roba aspetta però è andata bene perfetto ok vai in camera da letto e cerca la cassaforte andiamo andiamo scusa aspetta che mi frego qualcosa abbi pazienza ma me frego anche qualcosina allora apri questa è la camera da letto chiudi c'è collane non posso fregarmi sta no questa dire di no è una pietra di non so che cosa ed eccoci qua ok vediamo di pigliare a cassaforte e non ho fatto niente io e non è colpa mia la cazzo in questo questa è la casa del sindaco beh certo che anche noi andiamo nella casa del sindaco e rincoglioniti no la guida turistica non mi ha spiegato ma poi chi l'ha chiamato tutta sta pulizia tutta sta polizia va bene miglior hotel della città aia grazie grazie benvenuto a shady wood grazie mille bell'accoglienza avete fatto beh anch'io rubo nella casa del sindaco giustamente giustamente se ti beccano qualcuno chiamerà la polizia in questo caso scappa nasconditi fino alla fine del pattugliamento ok qua ci risvegliamo niente in carcere ci hanno arrestato molto carino è però devo dire che l'inizio mi piace mi piace un sacco molto semplice come comandi come detto molto simile a tif simulator ok abbiamo qualcuno che ci vuole bene va bene e qua dobbiamo fuggire dal carcere quindi dobbiamo fare anche una bella evasione perfetto allora elenco azioni no si mi serve esatto sono più la chiave la vedo la vedo difficile usa la chiave trova lo zaino nel magazzino perfetto apri apri si apri allora cucciamoci un attimo che qua c'è mi sa qualche tizio che dobbiamo superare allora intrufolarsi avanza furtivamente sì ok l'abbiamo già visto quindi siamo già accucciati permesso che c'è nessuno trova lo zaino nel magazzino si mi vorrei sapere dove sta la guardia a equa la guardia ok non è un gran che come guardia e questo l'abbiamo capito questo l'abbiamo capito porta quando non posso fare nulla perché sono tutte chiuse anche qua ok quindi la strada è assolutamente guidata va bene allora vediamo un attimo sbirciamo e non si vede la mazza c'è il muro apri tanto il magazzino è qua quindi linea di massima ok il mio zeno deve essere qua dentro qua la guardia non c'è quindi siamo a posto o ripigliamoci lo zaino perfetto prendi la chiave per l'uscita posteriore piglia piglia tutto perfetto e fino a qua fino a qua ci siamo allora quindi in teoria dobbiamo andare di qua ok exit quindi perfetto allora dai apri usa la chiave ok teniamo premuto sbirciamo un attimo ma vabbè di qua si esce quindi non credo che sia sorvegliata qua la zona ok di qua posso uscire no questa mi sa di no niente e va bene allora ce ne andiamo di qua da dove fuggo scusatemi datemi una macchina una cosa ok ho paura che chi cacchio è che spavento spostati in auto a in autobus a ok è arrivato il messaggio sul cerca persone ok queste no non posso fare nulla e allora ce ne andiamo va bene ma è la fermata dell'autobus a perché abbiamo la chiave del cancelletto qua ok e andiamo all'hotel perfetto si apri apri vai vai andiamo andiamo via più veloci della luce ma sa però che stazioni di polizia o scena e non c'era una guardia manco morire da parte quella lì che stava a dormire però va bene aspettiamo anche l'autobus qua davanti tra l'altro è quindi ok per cui dobbiamo andare in hotel si aspettiamo che arrivi il bus ma non c'è nessuno che guida un fantasma è un autobus posseduto alcune persone cercano di mobilizzare e famme leggere un attimo mannaggio vabbè tanto lo scopriremo anche col tutorial immagino ok quindi dobbiamo andare in hotel allora motel ok ma la camera 2 del motel sunlight ok andiamo alla camera 2 che è questa qua perfetta questa credo che sia effettivamente la nostra casa quantomeno per adesso poi si vedrà se davremo anche qualcosa di un po più decente ok chiama credo il capo che poi penso sia colui che ci ha salvato non ho ancora capito chi è ma sicuramente lo scopriremo nel gioco ok dovrei prepararti meglio sì poliziotti hanno la tua auto nel parche a ce l'abbiamo la macchina che recupera aggiungi il bar 66 ok parla con stacks stacks ti sistemerà perfetto ci sistemiamo meglio va che sto motel non è che sia un gran che allora dunque qua possiamo dormire qua acqua abbiamo luces va bene qua non so cosa possiamo a cambia attrezzatura vedi anche figata ok qua cambiamo tutta la nostra attrezzatura va bene la mia auto e la ok ma si beh ci vado a piedi ok abbiamo i telefoni penso in cui possiamo chiamare carri attrezze quant'altro va bene allora è però a ma non c'è nessuno qua ha proprio ma non c'è un poliziotto manco morire qua dentro scendi giù allora apri apriamo il cancello ok grazie mazza che auto questa sarebbe la nostra auto però però a e possiamo ovviamente anche guidare sì però devo capire dove sta al bar e giù di là ok quindi devo andare giù di qua perfetto no mamma mia ha una sensibilità che mostruosa sta macchina vedo comunque ci sono un sacco di cose ci sono veramente un sacco di cose ciò che il benzinaio e qua dovrebbe esserci eccolo qua il bar 66 ok parcheggiamoci maronna e scusate ma c'è la sensibilità che è veramente altissima va bene andiamo va vai un po più indietro grazie esci dai no aspetta il freno a mano a ma lo mette da solo perfetto bene bene così allora diamo apri eccoci qua siamo arrivati tu sei jack l'ho capito dallo sguardo nei tuoi occhi l'espressione di uno che sta cercando stax ha capito tutto questo la faccio un genio ecco come stanno le cose ok bisogno di un lato ma quell'anno è un poliziotto c'è simbolo uno in gamba noi in classe ogni volta ok va bene dai dammi sto lavoretto su un tizio ok con la pupua al posto del cervello va bene va bene e non ci dobbiamo far sparare ok ah perché non vuole buchi nel chopper ah non per noi ok mi sembrava strano mi sembrava strano mi sembrava strano va bene ma questo chi è scusami Kowalski classico nome da sbirro bisogna togliermi di dosso la polizia ah ok lui credo che sia una sorta di sbirro come si chiama insomma che sta anche dalla nostra parte un po' uno sbirro corrotto ecco ok allora dobbiamo andare da jobob a nulla vicina come dice tieni ah col tasso destro ok jobob ah ok aspetta fino a mezzanotte dormi in macchina nel parcheggio ah ok si lo devo fare prima sta cosa vabbè ho dormito ridormiamo quindi adesso dobbiamo dormire praticamente fino a mezzanotte ok va bene va bene dai non c'è problema allora quindi entriamo parcheggio dormi e impostiamo l'orario per mezzanotte ok dormi vai facciamo una bella dormita perfetto chiudi esci allora indossa ah devo ridagli e niente devo travestirmi in macchina indossa un travestimento notturno cambiati d'abito in macchina ok quindi cambio attrezzatura indumenti tattici perfetto dovrei averli indossati no credo sì benissimo a ok siamo stile ninja praticamente intruffolati attraverso il recinto posteriore ok sì così qua ci viene fuori l'icona che comunque non ci vedono siamo decisamente più tattici vedete benissimo allora quindi andiamo di qua ma se che bordello che ho fatto ok la veranda posteriore della roulotte ok però io se c'è anche qualcos'altro in giro da fregarmi ne approfitterei anche non sarebbe male ok eccoci qua silenziosi come i gatti eh vedi già che ci sono dovrei rubare qualcosa eh eh vedi che vengo qua solo per il chopper di quel tizio ruba alcuni getti a roulotte ma molto volentieri non me lo faccio aiuto messo incastrato non me lo faccio ripetere ma il cartone della pizza magari no la sedia dire di no eh sbirciamo eh sbirciamo ma non credo che ci sia nessuno no esatto perfetto perfetto allora possiamo alzarci allora le scarpe puzzolenti te le tieni anche cassette vabbè le cassette me le prendo eh cosa mi posso prendere qua niente no le scarpe ascoltano anche no uh ci sono dei soldi bene allora qua direi che non c'è niente uh soldi 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 chiudi ok qua nulla e qua direi nulla ok di sta roba qua niente va bene no sbaglia sbaglia tasto prendiamo una padella ma sì da una padella ci potrebbe sempre servire ok vediamo qua i cassetti altri soldi rubiamoci tutto il rubabile ovviamente perché qua siamo ancora nel tutorial quindi ci dice per l'appunto di rubare tutto ciò che troviamo prendiamo questo ok prendiamo i soldi ok altre scarpe da tennis ma sì dai prendiamo queste sono pulite quindi le prendo apriamo qua nel cesso vediamo cosa c'è eh no direi niente che uh sì che niente spesso dei soldi sulla vasca da bagno così va bene va bene va bene controlla il contenitore di joe bob oh eccolo qua il chopper l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato abbastanza devastato però non credo che gli farà piacere eh no esatto la moto è a pezzi e stack non credo che sarà molto contento eh di questa notizia però va bene noi ci siamo fregati un po' di cose quindi ma sti cavoli eh cassette prendi prendi soldi intanto mi frego un tostapane ma si che fa sempre comodo tostapane fa sempre comodo ok torna la macchina indossa gli abiti eh da giorno va bene va bene ma adesso di qua potrò aprire magari vediamo no eh no va bene torniamo da stacks dai andiamo da stacks e gli diamo eh la brutta notizia che la sua moto purtroppo eh è stata diciamo fatta a pezzi praticamente ok intanto qua ci stanno tutte le cose che abbiamo che abbiamo scippato eh esse è perfetto ok mi ha dato anche eh perfetto con un bel punteggio quindi ottimo così allora parcheggiamo qua senti io mi metto qua va che non ci voglio far manovra quindi scendi benissimo benissimo allora stacks ho brutte notizie per te brutte notizie ma bruttissime proprio come va eh ho cattive notizie ecco infatti eh se non posso arrivare la mia moto voglio un po' di giustizia eh lo immaginavo vai a rubarmi qualcosa abbastanza per coprire il valore del mercato della mia moto ok spacca anche qualcosa ah bene bene allora abbiamo aumentato la reputazione vendi il bottino eh al banco dei pegni ok questa cosa che fa cosa desidera bisogna bere qualcosa no direi di no ok quindi adesso praticamente ci fa vendere al banco di pegni che credo sia questo si silver coin quindi direi che questo banco di pegni perfetto perfetto con questo vendiamo subito tutto ciò che abbiamo raccattato ottima cosa allora vendiamo un attimo ehm cos'hai da vendere? allora io cassette sì posso vendere tutto direttamente va bene andiamo così 7 15 le padelle le cassette ok chiudi e un po' di soldi li abbiamo fatti eh va bene ragazzi allora facciamo però una cosa io per il momento per il momento mi fermo qui con eh questo titolo molto divertente devo dire molto carino perché insomma tutto abbientato negli anni 80 ehm ci sta tantissimo quindi devo dire fatto bene è divertente da giocare come ripeto molto simile ovviamente a tif eh simulator e questa è una cosa eh assolutamente positiva quindi questo è ovviamente giusto un video di anteprima di questo titolo perché come detto non è ancora uscito questo è solo il prologo quindi restiamo in attesa della versione definitiva che sicuramente vi porterò eh non appena uscirà comunque eh nel frattempo se volete giocarlo anche voi il prologo lo trovate gratuitamente su steam quindi lo potete scaricare senza problemi. Detto questo ragazzi io mi invito come sempre a lasciare un sacco un sacco di like e condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti iscrivetevi anche al mio canale Twitch lo trovate sotto in descrizione per non perdervi nessuna delle mie prossime live. Detto questo io vi ringrazio vi saluto e ci vi chiamo al prossimo play. Ciao belli!